Sono Cecilia Scaldaferri, giornalista dell'agenzia di stampa Agi del Desk Internazionale. Sono appena orientata da tre settimane, programma IVLP negli Stati Uniti. Siamo stati a Washington, San Diego, Minneapolis e Miami. Un programma molto intenso, pieno di incontri, università, think tank, agenzie governative, anche strutture militari, uffici legali. Un modo per avere un'idea veramente a 360 gradi di quello che può essere oggi gli Stati Uniti e in particolare la politica estera. La politica estera che è i rapporti Nato-Russia, ma anche il problema dell'immigrazione, il Medio Oriente, le comunità di immigrati e quindi il dialogo e l'integrazione sul suolo americano. Insomma, un programma denso, interessante, la possibilità di allargare la propria mente e il proprio sguardo, cosa che poi in fondo è quello che fa veramente la differenza e che ti permette, una volta poi tornato, di mettere a frutto questa esperienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.